Avrei necessità di affermare un mio diritto al percorso che ho intrapreso molti anni fa e che ho perseguito e seguito fino a quest'anno. La mia è una situazione di grande privilegio, credo di averti già risposto nella domanda precedente a questa. Cioè quello dell'aver fatto opere per il mio puro divertimento. Ecco, posso indicare questa sostanza del mio discorso. Ed è questo un privilegio gigantesco che posso affermare di aver ricevuto come uomo fortunato, diciamo così. Peraltro non saprei darti se non questa indicazione. Cioè che sia la mia formazione, ne avevamo poi in qualche altra occasione parlato, la mia formazione è urbinata, il mio essere a contatto con gente che ha fatto il mio stesso mestiere, giusto? È in una situazione di totale benessere come quello che è capitato. Ma credo sia un elemento di grande, come posso dire, grande rarità. Cioè è un qualcosa che è capitato a pochi e io mi ritengo fortunato per essere stato invece dentro questo meccanismo vantaggioso per la mia buona salute mentale. Diciamo così. Grazie. 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 Grazie.